Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui, ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fanta Calcio. Oggi ci saranno veramente tantissimi appuntamenti, tra video e live arriveremo addirittura a quota 5. In questo video delle 13.30 parleremo per l'ultima volta di asta di riparazione. Andremo a parlare di 10 giocatori che nelle ultime aste che ho fatto e che ho visto soprattutto anche che mi avete mandato voi sono stati sottovalutati o addirittura neanche presi all'asta. Sono quei giocatori ovviamente che non vi cambieranno la squadra ma che come ultimi slot per tappare un buco o per fare una scommessa ma soprattutto per tappare un buco perché sono giocatori come vedremo che vanno praticamente sempre a voto possono essere importanti. La stagione è comunque ancora lunga, mancano 15 giornate e soprattutto nelle ultime partite come sappiamo tra turnover, esperimenti, giocatori che magari non hanno mai giocato e che vengono fatti giocare, avere questo tipo di giocatore può fare la differenza e può essere decisivo per il vostro Fanta Calcio. Poi oggi invece ci rivediamo alle ore 15 live, ultima live dedicata ai consigli per l'asta di riparazione. Poi 17.15 piattaforma viola, canale Il Profeta Twitch, iniziamo a parlare della giornata che inizierà domani ore 18 nuovamente qua su YouTube parliamo ancora di formazioni per quanto riguarda la giornata di domani e poi alle ore 20 uscirà il consueto video di analisi delle partite. Andremo a vedere nel dettaglio partita per partita quali potrebbero essere i giocatori più interessanti da schierare, quelli magari da evitare e proveremo a così prevedere un po' come potrebbero andare le partite. Poi domani come sempre altre live e top 11 underdog e certezze. Ma torniamo a noi, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, andiamo a vedere questi dieci giocatori sottovalutati. Il primo è quello che avete visto in copertina, parlo ovviamente di Lukic. Lukic, a detta di Juric, è un giocatore in questo momento abbastanza insostituibile nel Torino. Abbiamo dei dubbi su chi giocherà in mediana, Mandragora, Ricci, Pobega ormai parte qualche metro dietro, però secondo me Lukic giocherà. Giocherà spesso, ha già fatto un bonus, ne potrebbe fare altri e devo dire che rispetto ad altri del Toro in questo momento lo vedo molto sottovalutato nelle aste. Il secondo nome è uno di quei regolaristi che magari non ti porterà tanti bonus, ma giocherà sempre e con ottimi risultati. Parlo ovviamente di Zambo Anguissa. Ho visto che tante squadre lo hanno svincolato in questa sessione per andare a caccia dei top, per andare a caccia delle scommesse, ci può anche stare, ma se avete bisogno di completare la rosa, beh, Zambo Anguissa è uno che messo lì tra il sesto e il settimo slot vi può davvero tappare i buchi quando sarete in emergenza. Quindi non sottovalutate questo nome, perché ripeto, il Napoli fino a dicembre c'è stato un Napoli con Anguissa, Ossimen, con Coulibaly, poi dopo l'infortunio di Ossimen, dopo l'infortunio di Coulibaly e quello di Anguissa abbiamo visto un Napoli diverso. Ora, Anguissa tornerà, quindi non dimenticatevi questo nome. Il terzo nome è un altro nome che ti garantisce titolarità e discrete prestazioni. Parlo di Busio, del Venezia. All'inizio ha avuto qualche difficoltà, doveva un po' ambientarsi, giocatore molto giovane, ma poi quando ha iniziato a ingranare non è mai stato praticamente più tolto. Il giocatore c'è, ha ancora tanto potenziale di crescita, non è un giocatore da bonus, ma ripeto, per andare a colmare le lacune di titolarità può fare assolutamente al caso vostro. Il quarto nome, torniamo in casa Toro. Parlo di Ricci, giocatore anche questo molto sottovalutato, da molti svincolato, non è un giocatore da bonus, assolutamente, ma se cercate un giocatore che può garantirvi buone prestazioni, anche qui con minutaggio, secondo me che andrà sempre di più a crescere, perché il Torino lo ha detto, vogliamo puntare sui nostri giocatori, vogliamo valorizzarli. Ricci, tra prezzo speso ora e diritto di riscatto obbligatorio, il Torino l'ho pagato più di 8 milioni, quindi è una cifra importante per una società come quella granata, quindi Ricci non credo che verrà lasciato in panchina, anzi, anche lui ha un nome che secondo me può sicuramente tornarvi utile. Il quinto nome è un giocatore che mi ha sorpreso, veder andato via poco, addirittura non essere preso alle aste. Parlo di Aibiscia. Aibiscia del Bologna è un giocatore che, se lo avete un po' seguito, anche abbiamo fatto un video dedicato a lui, è un giocatore che magari non giocherà la prima, magari non giocherà la seconda, ma poi diventerà titolare nel Bologna, anche perché non ci sono molte alternative, nel senso che Viola finora non ha garantito quella continuità che chiede Mijajlovic in quel ruolo al posto di Dominguez. Aibiscia è un giocatore pronto, fisicamente sta bene, ha già una discreta esperienza rispetto a tanti altri del Bologna, quindi è un giocatore che secondo me giocherà e nelle gambe ha anche un paio di bonus che potrebbe portare. Certo, non sarà Svanberg, però io starei attento, diciamo, a lasciarlo proprio nel dimenticatorio. Quindi anche questo, non ragazzi, che io a un credito, a due crediti, come ultimo slot, un pensierino ce lo andrei a fare. Passiamo all'attacco. Nani, va benissimo ragazzi. Yeboah, Insame, Piccoli, Supriaga, tutte bellissime, bellissime scommesse da sesto slot che potrebbero esplodere, come invece non fare nulla. Però poi c'è Nani, che è un giocatore che già conosciamo, che ha già fatto un assist, che andrà spesso a voto, che in tante aste non è stato neanche preso o preso proprio all'ultimo per disperazione. Allora, nel Venezia in questo momento qual è la situazione? Che come punta centrale sostanzialmente ci possono giocare tre giocatori. Henry, che parte davanti, poi abbiamo un Same e Okereke. Benissimo. Sull'esterno, invece, o gioca Nani o gioca Okereke. Quindi Nani magari non avrà mai 90 minuti nelle gambe, quello sicuramente, ma a voto penso che ci andrà praticamente sempre. E quindi il mio consiglio è che se avete un attacco copertissimo e volete fare lo slot commessa, va bene puntare su uno tra Yeboah, Insame, Piccoli, Supriaga, eccetera, eccetera. Ma se invece avete bisogno di titolarità, di garanzia, di copertura e i vari verde, jazi, eccetera, eccetera, sono già stati presi, ma Nani, secondo me, è molto più adatto rispetto a quei 60 slots commessa. Quindi anche qui non dimenticatevi il nome del portoghese. Poi un altro nome che ho visto che è stato svincolato da molte squadre e che non sempre poi è stato ripreso all'asta o se è stato preso è stato pagato pochissimo, è Bastoni dello Spezia. Ok, sarà rotto ancora per una ventina di giorni, va benissimo, salterà un paio di partite ancora, può essere, ma se ve lo ricordate Bastoni quando giocava ormai giocava a centrocampo. Il stato difensore è un piccolo bug e come sempre i bug al fantacalcio vanno sfruttati. Se avete una difesa che non è già piena di giocatori che giocano o non giocano, come Chiellini, Ansaldi, Di Marco, eccetera, eccetera, e siete già coperti, andate assolutamente, su un giocatore come Bastoni che oltre a garantirvi anche qualche bonus vi garantisce comunque sempre titolarità e ottimi voti anche in ottica modificatore. Lo abbiamo citato poco fa e un altro nome che è stato svincolato da tanti perché magari aveva la quotazione alta e hanno cercato di fare più svalenze è Verde, Verde dello Spezia, titolare, potenziale rigorista quando in campo. Questo nome addirittura è meglio anche di Dani, secondo me. Anche qui, se avete bisogno di un quinto slot che quando volete mettere sapete che gioca e soprattutto magari qualche bonus ve lo può portare, anche Verde è un nome che io non tenderei ad escludere. Anche perché, ok, il sesto slot scommessa, ma non andrei mai a fare un quinto e un sesto slot scommessa. Cioè, se nel sesto slot fate la scommessa giovane, arrivata, di cui però non sapete bene che cosa potrà fare, beh, almeno nel quinto slot andiamo a mettere qualcuno che giochi, qualcuno che conosciamo già, qualcuno che sappiamo che appunto quando ne abbiamo bisogno lo andiamo a schierare. Prossimo nome, ragazzi, è un nome che mi ha stupito vedere in tante liste degli svincolati. Parlo di Brozovic. Ok, Brozovic fin qui non ha fatto bonus, verissimo, in un Inter che segna tanto, in un Inter che gioca così bene, possiamo dire, ci aspettavamo forse magari uno o due gol in più da Brozovic, tutto vero, però da qui a svincolarlo mi sembra un po' eccessivo. E tra l'altro anche quando è stato svincolato è stato riacquistato a cifre veramente molto molto basse. Ora, parlo ovviamente di fantacalci classic perché in un mantra ovviamente nessuno svincolerebbe mai Brozovic, però Brozovic è un giocatore che gioca comunque nell'Inter, quindi difficilmente ti andrà mai sotto al 6. Gioca comunque in una squadra che segna tanto, quindi da qui alla fine un paio di gol per Brozovic ci potrebbero anche uscire. Secondo me, per andare a prendere magari un giocatore tappabuchi da ultimo slot come un Rovella, un Arslan o un Busio, che abbiamo citato prima, se potete prenderlo a pochi crediti, ma tutta la vita mi prendo Brozovic, ok? Che è un giocatore che a me in ottica fantacalcio non fa impazzire, però comunque come ultimi slot per me è un lusso che vi dovete assolutamente permettere. E andiamo a finire questa lista di 10 nomi con un altro nome che mi ha stupito vedere in tante liste gli svincolati e mi ha stupito anche vedere essere ricomprato a pochissimi crediti. Parlo di Torreira, della Fiorentina. Anche qui non siamo davanti a un centrocampista dal grande potenziale di bonus, verissimo. Però se andate ad analizzare le partite della Fiorentina e soprattutto il rendimento di Torreira, vi accorgerete che soprattutto nell'ultimo periodo vi ha garantito titolarità, assolutamente ottimi voti e addirittura anche qualche bonus. Ecco, qui più o meno vale il discorso per Brozovic, anzi per me Torreira in ottica Fanta è anche meglio forse di Brozovic perché comunque gioca in una squadra che segna, una squadra offensiva e allo stesso tempo è un giocatore che negli equilibri del gioco all'italiano è sostanzialmente insostituibile. Anche qui tra prendere un Cataldi, un Anguissa, un Rovella mi prendo tutta la vita Torreira a per il prezzo. Quindi anche qui fate attenzione, non dimenticatevi questo nome. Ragazzi, questi erano i 10 giocatori un po' più sottovalutati che ho visto nelle ultime aste di riparazione, so che tanti di voi la devono ancora fare, c'è chi lo fa stasera, addirittura qualcuno la farà la settimana prossima, segnateveli, sono nomi da prendere a poco, qualora ci fossero fateci un po' più attenzione. Detto questo, io vi do appuntamento alla live delle ore 15, sarà l'ultima live dedicata ai consigli di asta di riparazione, poi dalla settimana prossima partiranno le live invece incentrate esclusivamente sugli scambi. So che tanti di voi adesso per una settimana andranno ad aprire gli scambi, beh, quelle live saranno fatte apposta per rispondere a tutte le vostre domande. Grazie mille ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo più tardi. Ciao!